Nissa a K.O. a Casteldaccia nella prima giornata del campionato di eccellenza. I palermitani liquidano con un perentorio 3-0 i biancoscudati. Primo gol al 35esimo del primo tempo su calcio di punizione. E' l'api a superare l'estremo difensore nisseno con un tiro da ragguardevole distanza. Nella ripresa, al 25esimo, la squadra di casa cerca e trova con determinazione la rete del raddoppio con Monti. E' a sette minuti dal triplice fischio finale. Va ancora in gol su calcio di rigore trasformato da Megna. Per il Casteldaccia ripescato meno di un mese fa in eccellenza. Una domenica da incorniciare per la Nissa e i suoi tifosi. Una partita decisamente da dimenticare. Così l'allenatore della Nissa Alessandro Settineri nel dopogara sulla pagina social biancoscudata. Se non concretizzi quello che produci, poi vieni condannato da un infortunio al nostro portiere che ha condizionato la partita dal primo e dal secondo gol che è l'ennesimo episodio che ha condizionato la partita. Dobbiamo imparare a capire che in questa categoria devi essere cattivo, cinico. Non basta essere belli, ma bisogna essere concreti. Questa squadra, me compreso, ma soprattutto la squadra, credo che debba fare un grande bagno di umiltà. Capire che quando hai all'inizio, nella prima mezz'ora, determinate palle gol, le devi sfruttare al meglio. Dopodiché complimenti agli avversari perché hanno messo il cuore. Mi preme chiedere scusa per l'atteggiamento degli ultimi 20 minuti che neanche io tollero. Perché la squadra non deve mai arrendersi, anche se gli episodi non sono girati, tutto quello che vuoi. Però bisogna avere anche la personalità e l'attaccamento. Grazie a tutti. Con uno, Mazzara, Oratorio San Ciro e Giorgio, Enna e Mazzarese. A zero, tutte le altre. E mercoledì, Nissa nuovamente in campo per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia contro il Gela. All'andata, al Vincenzo Presti. Partita finita in parità, due a due.